Allora trattiamo oggi un tema molto sentito per tutto il versante est della capitale che usufrisce della 24 e farò una breve ricostruzione dei fatti che poi io spero verranno approfonditi dalla nostra giunta perché praticamente ci sono diverse perplessità che scaturiscono diciamo da accordi che iniziarono nel 73 con la costruzione della tangenziale est del tronchetto stradale quindi che viene escluso dal pagamento cioè dal grande raccordo anulare fino alla tangenziale est. Nel 2002 iniziamo l'avventura io la definisco così delle complanari perché l'ANAS stipulò un accordo quadro con Ministero Infrastrutture, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma e Comune di Ioli, Guidonia, Castelmatama e Cassa Depositi e Plessi per la costruzione della terza corsia. Nel 2003 il Consiglio Comunale adottò il nuovo piano regolatore e quindi commutarono il discorso della terza corsia dell'autostrada 24 con le complanari per le mutate esigenze della città quindi per poter venire incontro all'incremento di popolazione su quel versante. Ricordo che Ponte di Nona, Colle degli Abedi e altri quartieri limitrofi sono collegati alla città solo ed esclusivamente grazie all'autostrada 24 perché la viabilità ordinaria è praticamente insufficiente. Nel 2004 è stato siglato un protocollo d'intesa tra Ministero Infrastrutture, dei Trasporti, ANAS, Strate dei Parchi e S.P.A., Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma con delle previsioni ben specifiche circa la realizzazione delle due complanari. Nel 2006 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Lazio, ANAS, eccetera, eccetera, sottoscriverono una nuova intesa per la realizzazione delle complanari che stiamo trattando. Praticamente il costo dell'opera è stato di quasi 260 milioni di euro. Chiarisco sul perché sto facendo questa cronologia di interventi. Il discorso è che nel 2008 e 2009, cerco di stringere, ci sono stati degli atti integrativi che portarono a delle vere e proprie conclusioni, diciamo che potevano essere anche viste in favore dei cittadini. Quindi si stabilì di ridefinire operativamente le modalità di gestione, gli oneri, le responsabilità in capo ai soggetti interessati. Insomma, era tutto da programmare e da stabilire con tutti gli enti interessati. Il discorso qual è? È che dal nostro punto di vista nel 2009 l'ANAS sottoscrive direttamente con strade dei parchi una convenzione unica che di fatto annulla tutto quello che era stato fatto fino a quel punto. Sicuramente noi non mettiamo in dubbio circa la bontà dell'azione del governo in quel periodo, però ci sono alcune piccole discresie che dovremmo approfondire. Soprattutto a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che gli aumenti stabiliti sulla base di una presunta autostrada di montagna sono per noi decisamente inaccettabili, visto che siamo vicini al livello del mare e oltretutto l'esclusione dalla stipula dell'ultima convenzione unica di tanti enti interessati, tipo tutti i comuni del Basso Lazio e la Regione Lazio, ha previsto una, io definirei, strana situazione. Perché? Perché le complanari erano state progettate per essere dedicati al trasporto pubblico locale e sono prive di corsie di emergenza. Quindi secondo noi anche difficilmente possono essere classificate come autostrada, ma al massimo possono essere identificate con una definizione che sta nel regolamento viario, quindi come strade urbane di scorrimento tipo D. Quindi la posizione del petaggio è alquanto singolare, quindi io la valuterei. Altre discriminazioni che si sono create sono state dal fatto che nell'ambito dello stesso comune ci sono cittadini che beneficiano di un tratto considerato autostradale gratuitamente e altri che sono costretti a pagare un petaggio notevole. Quindi qual è l'impegno che noi chiediamo alla Sindaca e alla Giunta Capitolina? Sicuramente quello di verificare l'esito del tavolo tecnico che c'è stato il 9 gennaio 2018 tra i governatori del Lazio e Abruzzo e il Ministero delle Infrastrutture, i quali avevano annunciato pubblicamente che avrebbero cercato di proporre alla concessionaria l'applicazione di uno sconto che a noi per il momento non risulta perché i petaggi sono rimasti invariati, cioè aumenti compresi. E poi la riapertura e la ridefinizione di uno specifico accordo che riprenda gli impegni che erano previsti nei precedenti accordi che hanno escluso buona parte della città e hanno determinato una discriminazione tra i cittadini dentro l'accordo e i cittadini che abitano fuori d'accordo. Quindi la nostra azione dovrà essere improntata sicuramente a un intervento dell'Avvocatura Generale per riprendere tutta la documentazione e anche politicamente cercare di interessare il nuovo governo per sanare questa situazione che di fatto è veramente penalizzante per i cittadini romani e assolutamente andare a riconciliare quello che è un diritto sacrosanto, cioè quello di Morsi all'interno almeno del proprio comune, visto che parliamo di Roma, con la stessa libertà degli altri cittadini. Grazie.